hey whatsapp ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio ovvero il terzo episodio delle sponsorizzazioni delle vostre unità operative su boom beach e dei vostri clan su clash of clans partiamo subito con i cinque clan di clash of clans partiamo subito con il primo si chiama warhouse clan livello 2 clan war 2 attacco obbligatori col primo attacco il corrispettivo con il secondo si decide poi nel clan consigliato di attaccare con draghi ma anche altro può andare bene comunque non c'è un livello minimo per andare nel clan basta solo saper attaccare e l'anzianità si riceve a 100 donazioni passiamo al secondo clan ita war team un clan serio solo veri player uniti per raggiungere dei grandi traguardi unitevi a questo clan solo se siete disposti ad aiutare ogni singolo player dentro il clan loro lo faranno con voi non aspettate unitevi è presente anche l'accademia che si chiama ac ita war team che sta per accademia passiamo al terzo clan si chiama distruggi tutto anche questo livello 2 venuti in distruggi tutto rispetto educazione verso tutti è richiesto obbligatorio partecipare alla guerra fare gli attacchi merg e dom non si capisce bene cosa voglia dire parità tra donazioni fatte e ricevute reclutano minimo livello 80 truppe base al massimo se infrangi siete fuori passiamo al clan numero 4 nome buffofex si richiede soltanto di essere attivi le truppe minime per entrare sono gli archi gli arcieri livello 5 i maghi livello 4 il drago minimo livello 2 e domatori minimo livello 3 obbligatorio eseguire due attacchi nella guerra oppure siete fuori direttamente chi esce non può rientrare chi ne vuole fare guerra quindi esce prima che venga scatenato passiamo al quinto e ultimo clan ovvero LLM2 a livello 80 più si va nel clan legatus legionis chi esce non può più rientrare chiedere più di quanto si dona l'attività in chat è richiesta l'anzianità si ottiene con fiducia e merito e il capo va ai membri speciali le bestiemi non vengono tollerate chiaramente no bimbi minchia e quindi LLM2 vi augura un buon game bene passiamo adesso a boom beach partiamo con la prima unità operativa che è boom bazi unità operativa con anche un canale youtube la seconda unità operativa invece è boom ita che nello scorso video sbagliato ho sponsorizzato un altro con lo stesso nome ma questa è quella più quella più in cima insomma più forte requisiti per entrare livello 45 partecipazione attiva in chat e missione rispetto sono appunto nella top 10 italiana quindi forza boom vita passiamo invece all'unità unità operativa che è quantum web benvenuti in uno dei primi clan della storia di boom bici promozione fiducia rispetto verso gli altri promozione fiducia rispetto verso gli altri e buon game bene ragazzi anche per questo sponsorizzazione tutto perché non è stato sponsorizzato non vi preoccupate lasciate sempre nei commenti nome del gioco nome del clan o unità operativa e il tag e noi come sempre ragazzi ci vediamo a domenica prossima alle 12 e 30 ciao a tutti ragazzi